Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo minovissimo video qui da Zarsetetsetskaiparla e siamo tornati in un nuovo video allora ragazzi già come potete vedere da davanti ho l'autografi di un youtuber famoso di FaviJ FaviJ è venuta nella fiera di Bellaria loro sono andato e mi sono fatto fare 4 autografi allora, potete screenare ora e via ok, questo qui è per me questo è per mio fratello poi scusate ragazzi scusate ragazzi che mio fratello usava il tablet non vi voglio far sentire rumori e poi questi qui sono due in più che li regalerò ai miei amici e ragazzi mi scuso se questo video è breve ma non ho più niente da dirvi spolliciate per questo video e per questo video voglio almeno 10 like e se raggiungiamo magari 20 iscritti per uno speciale e niente raga io vi saluto speriamo che il video vi sia piaciuto commentate, iscrivetevi facendo almeno 10 like per questo video e ciao belli